Bambini e bambine pronti a cimentarsi nella stesura di racconti, prendendo spunto dalle schede sulla biodiversità faunistica messa a disposizione dagli organizzatori. Nasce così, per volontà dell'Oasi Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, il premio letterario I racconti dell'Oasi, riservato alla fascia di età tra i 7 e i 14 anni. Il bando per partecipare al concorso si trova sul sito riservacalanchiatri.it, con scadenza per la presentazione degli elaborati fissata al 20 ottobre. Tra i premi previsti, anche l'adozione a distanza di animali in pericolo. Introdurre i bambini alla biodiversità dell'Oasi dei Calanchi, quindi abbiamo messo online delle schede attraverso le quali i bambini possono conoscere i vari animali presenti sul territorio dell'Oasi. Poi, in base agli spunti che trarranno da queste schede, potranno ideare un racconto di genere qualunque, quindi anche di fantasia, inviarcelo e poi noi cercheremo di raccogliere i racconti più belli in un'antologia. Non solo stimolare la conoscenza della biodiversità, tra gli obiettivi principali c'è quello di educare questa fascia d'età al rispetto della natura, troppo spesso devastata dalla mano dell'uomo. Essendo anche un centro di educazione ambientale della regione Abruzzo, la riserva svolge anche una funzione educativa e formativa rispetto alle nuove generazioni. Uno dei nostri cavalli di battaglia infatti è sia la ricerca scientifica ma anche l'educazione ambientale. Questo progetto, questo concorso letterario si inserisce proprio in quest'ambito, non più i giovani come luogo dove formare persone, ma i giovani visti dall'altra parte, in ascolto, per capire anche quali sono le loro prospettive per un futuro che deve essere sicuramente migliore per risolvere questioni ambientali che adesso vanno sempre peggio nel corso degli anni. Disgrazie a parte, quest'estate c'è stato proprio boom per quanto riguarda la riserva dei Calanchi di Atri, avete anche presentato una nuova brochure per portare sempre più persone a visitare questo luogo incantevole della regione Abruzzo. Sì, la riserva ormai è diventata una delle perle dell'Abruzzo, è uno dei luoghi più visti dell'Abruzzo, i Calanchi affascinano tutti. Ieri abbiamo presentato questa nuova brochure con la cooperativa Riscatto a Teramo, grazie al WWF Abruzzo, quindi ci siamo messi in moto e ormai non ci ferma più nessuno.